Allora, spiritoso giochino, io vi dico uno statement e voi dovete decidere se siete molto d'accordo, d'accordo, in disaccordo, molto in disaccordo. Qual è il punto? Che siete tre. Quindi vorrei vedere, testare la vostra coesione. Perciò mettete tutti e tre la mano e vediamo dove andate. Allora, ve la sentite? A sentire te impiennare. Allora, omettere non equivale a mentire. Omettere non equivale a mentire. Oh, mi sembra qualcuno ha forzato da qualche parte. Sì, che è un po'... Omettere... No, è mentire, è mentire. Secondo me non dire qualcosa è mentire. Cioè, se ti ho tradito e non te lo dico, non è che non ti ho tradito, è comunque mentire. Allora, dipende sempre, dipende sempre. Però in linea di massima, molto in disaccordo. La accendiamo? Sì, che sì. La accendiamo. Sì, omettere è anche un po' dimenticare. Ma vedo, vedo proprio... Sì, però... In realtà, in linea di massima è così. Però ci sono delle situazioni in cui magari omettere potrebbe essere un gesto carino nei confronti... Sì, bugia bianca. La bugia bianca, esatto. Sì, che è quello che dicono i bugiardi. No! I bugiardi bianca. Esatto. Allora, non bisognerebbe uscire con qualcuno che vediamo tutti i giorni. Tipo una collega, una compagna di classe, un'amica stretta. Oh, ma... Non bisognerebbe uscire. Non bisognerebbe uscire. Io sono molto d'accordo che non bisognerebbe uscire. No, no. Sì, perché? Per voi ci uscireste. Ma certo. Però poi si crea quell'imbalase. Usciamo insieme noi tre. Sì, ma no, ma uscire romanticamente. Ah! Eh, va bene! No, 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 dai. Ma noi romanticamente non usciamo mai, cioè, se non con le nostre compagne. Alla vita, al liceo, alle medie, alle elementari, non lo so quanto siete precoci. Puoi uscire con una tua compagna di classe al liceo, quindi... Ma in realtà uscire per me non significa uscire. C'è un passetto indietro. Allora, se uscire, se uscire intendi... Romanticamente. Romanticamente, molto d'accordo. Sì. Se uscire, uscire, vabbè, no, ovviamente anch'io molto d'accordo. No, in realtà d'accordo, non proprio molto d'accordo. Più di mezzo. Perché comunque, cioè, però, noi ormai non usciamo più in quel modo là. Usciamo solo con le nostre compagne. E basta. No, in quel modo lì. In quel modo là uscire, sì. Perché poi per il resto, per questo eravamo molto in disaccordo, perché uscire con un amico o un'amica è giusto. Sì, forse avrei dovuto specificare un pochino che l'uscita è romantica. Sì, forse è l'uscita è romantica. Eh, c'è quel dettaglio che fa la differenza. L'ho scritto male. È quel dettaglio che fa la differenza. Allora, questa è molto importante per me, quindi vi voglio focus. Allora, il primo film di Shrek è il più bello. Non l'abbiamo visto. Nessuno di voi ha visto Shrek. Non ci credo neanche. No, io proprio, cioè, non guardo. E anche un cartone. Niente, io guardo solo... Gratatouille. Io sono soltanto dei Pink Floyd e di Michael Jackson. Mai visto un cartone? Sbaglio, cioè, ero di Francesa. Qualcosa sì, quando ero bambino, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. Family Guy. Però io so che Shrek è verde. È un'ottima informazione. Allora, aspetta, posso andare proprio a sentimento? Com'era la domanda? Era il primo film di Shrek è più bello degli altri, tipo è il più bello. Molto d'accordo. Brava, è vero, è vero. Ma anche io, però. Ma perché questo, se io avessi visto realmente Shrek, il primo è sempre più bello. Il primo è meglio degli altri. È sempre più bello, è sempre più il giusto, che poi è quello che ha fatto diventare. Se ce n'è un secondo, significa che è stato talmente forte, che ha creato un vero accanimento. È una bella logica. Chi sa suonare la chitarra è più sexy di chi ha una bella voce? Molto d'accordo. C'è un conflitto di indossi interno. No, io devo rispondere solo lui. Ah, io devo rispondere anche io. Perché chi sa suonare la chitarra è molto più sexy? Non molto, in disaccordo. Per il cantante? No, a me piace più il cantante. Sì, però se il cantante sa suonare la chitarra, lo vedo più il più. È il fascino del cantante, ma il chitarrista è un po'... Vabbè, non so dove... Aspetta, ci riferiamo comunque a un cantante chitarrista. Cioè, Adam Levine, ti piace? Cacchio, accidente, se non mi piace. Accider bolina. Accider bolina, mannaggia. La musica di oggi è troppo violenta, sui testi. La musica di oggi qual è? Trap, trap. Allora, io devo essere forse in disaccordo perché appartengo alla musica di oggi. Cioè, in senso, con l'andare avanti... Se ci sono anche io e i miei testi non sono violenti, per cui non mi sento di dire d'accordo. Mi sento di dire in disaccordo. Non molto, perché comunque mi rendo conto che la fetta è ampia e potrebbe essere qualcosa magari un po' violento. Ma comunque siamo da questo lato della linea perché te lo vai a sentire. Cioè, è una roba che devi un po' più settoriale, un po' più... Sì, esatto. Tu ti d'accordo. Io con la telecinesi volevo andare lì. Con un disaccordo. Allora, chiudiamo. Io direi che dovresti guardare Shrek. Ne vuoi un altro? Ma non so che inventare, ma abbiamo finite. Guardare Shrek è necessario. Vabbè. Mi aggiornò. No, molto d'accordo. Ciao, è un piacere. Non so come darvi la mano. Ci vediamo tutte. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Grazie.